Ciao a tutti, sono Francesco Annella, sono nato a Napoli nel 1993. Sono di Napoli e mi piace tanto recitare, mi piace fare teatro, mi piace il cinema, mi piace essere polietrico, infatti ho fatto tante cose nella vita e sono laureato, sono laureato in ingegneria, lavoro ma non ho mai smesso di affrontare la mia prima vera passione, che è quella del cinema, quella del teatro, della recitazione. Sono una persona solare, mi piace tantissimo approcciarmi agli altri, vedere la profondità ed è stato questo il motivo che mi ha spinto a continuare in questo fantastico mondo che è la recitazione. Che cosa altro posso dire? Posso dire che mi piace cantare, mi piace tanto cantare, prendere una chitarra, cantare con i miei amici, stare lì una serata, tutti insieme, no? E questo è quello che ho da dire, vi auguro tante belle cose e sono contento di essere qui e di fare questo mestiere. Ciao a tutti!